Il comune di Taino abbiamo aderito all'iniziativa del Lanci con tre progetti, abbiamo l'asilo nido, i servizi sociali e l'ambiente ecologia, abbiamo veramente intenzione di rinforzare un po' il nostro organico e dare la possibilità ai giovani di potersi un po' addentrare nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda l'asilo nido ci sarà l'affiancamento alle educatrici, ci sono delle persone molto valide, per quanto riguarda invece l'ambiente ecologia so più che altro per il discorso rifiuti, smaltimento rifiuti che in questo momento è abbastanza sentito. Abbiamo già ricevuto diverse richieste da parte dei ragazzi, vedo che c'è molto interesse, quindi penso che ci sarà veramente un bel rapporto tra di noi. Grazie